L'artista esistenziale su buonasera a tutti, uno schiaffo alla xenofobia perché sta creando questa punta di razzismo assurdo, pazzesco, inverosimile, verso se abbiamo iniziato un pochettino con i cinesi, adesso si sta cominciando, ricominciando come volete voi, con gli italiani. Una situazione poco gradevole considerando che molti voli sono stati bloccati o quant'altro, proprio perché fondamentalmente si ha paura che il veicolo di infezione possa essere l'italiano e quindi da questo punto di vista effettivamente si sta rasendando la follia, quindi è una situazione che speriamo che nel breve tempo si risolva, ma tendenzialmente questi atteggiamenti di xenofobia non fanno altro che effettivamente essere degli atteggiamenti iniqui, inconcepibili, riguardosi, considerando che noi siamo tutti figli di Cristo, tutte le differenze si dovrebbero fare, io spero che tante cose rientrano, però non è questo il modo di comportarsi. L'artista esistenziale su buonasera a tutti.